Per Simona, conta il dialogo con i clienti e la consapevolezza dei suoi consumi. Per Elena, conta la cura della sua famiglia e della sua città. Per Luca e Francesco, conta l'efficienza energetica e professionale. Per Laura, conta l'impegno per i suoi progetti. E per l'ambiente. Per Andrea e Federica, conta la libertà di scegliere e di risparmiare. Per nonno Giuseppe, conta l'energia che si crea insieme. Per noi, conta costruire insieme un futuro più sostenibile. E per te, cosa conta?